ciao ragazzi facciamo una partita siamo siamo i bianchi vi salutiamo io e cristian io gioco cavallo f3 ok la reti e dopo c5 io gioco l'inglese entro nella nella inglese ecco dopo e 6 ora qui si può giocare sia g3 oppure giocare d4 ma io gioco g3 semplice alfiere g2 è qui a rocco e d4 cavallo prende va bene donna prende alfiere c5 può darsi col tempo questa non deve essere buona una perdita di tempo è una perdita di tempo però tutto rispettabile giocabile insomma comunque qui cavallo c3 deve essere la mossa con idea alfiere qui ecco l'alfiere anche qui però alfiere qui lui viene di 6 e con idea poi è 5 per questo motivo per evitare questo possiamo giocare non lo so anche b3 con idea alfiere a3 b3 idea alfiere a3 qui andare qui b3 alfiere 7 alfiere a3 d6 torre d1 non ha tempo di fare ecco questo può essere una mossa molto buona b3 qui b3 b3 con alfiere a3 si con idea alfiere a3 poi torre d1 e reggiamo la cioè prendiamo sotto controllo e vabbè questa è una mossa dubbio diciamo alfiere a3 credo io il b3 a3 d1 e reggiamo la comma ora vuoi giocare per la casa d6 che vuoi compito? sì quella casa di 7 sì 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 ma h5 non era buona dopo h5 non so ecco peggio sì infatti dopo questa viene come lo difende? ecco devi fare re di sette? ma questa non questa non da nulla questa non è una minaccia perché giustamente noi prendiamo qui in D6 prendiamo un pedone purcomo cioè qui prendiamo come è possibile che quasi un 2000 giochi così è bulgaro i bulgari stanno quasi in attacco no giocano bene in generale giocano anche posizionalmente 2000 sei un quasi candidato maestro si ma quando giocano contro i me non giocano così tra l'altro sta giocando molto veloce lui cioè si sta usando adesso il tempo ma adesso è troppo tardi ah lui viene lì però va bene ora qui mangiamo qui si giustamente deve mangiare con il re credo però qui finish ah si finish si perde la torre ecco non ci posso credere non puoi polverizzarli così velocemente per centone di precisione quanto siamo qui il 100% no ma al 200 no come al 88 vabbè il motore io direi di farne un'altra e questa è durata niente va bene facciamo un'altra certo saremo i neri a questo giro vediamo un po' e 4 ora io gioco la carocan ecco e c6 d5 va bene dopo questa variante io gioco alfiere f5 sviluppo l'alfiere prima perché poi gioco e6 ecco e6 dopo questa variante ora ci sono qui ci sono tantissime varianti cc5 la variante che è più va bene ma io voglio giocare un'altra variante oggi ecco gioco questa variante questa è una mia vecchia variante ecco qua l'idea di questa variante è di sviluppare il cavallo qui ok ecco cavallo qui o cavallo qui ecco cavallo qui o cavallo h6 va bene e poi giocare e poi giocare a cavallo f5 e poi giocare a cavallo f5 per questo motivo giocare a cavallo f5 chi è chi è schavallo qui dopo questa c'è alfiere qui giustamente ok qui gioca Rocco giustamente lui può mangiare io posso mangiare sia con la donna qui però è un gioco semplice anche non credo che questa cattura sia buona non credo però potevo giocare anche di per c giocare con però il nero ha la coppia degli alfieri un gioco più facile da giocare cavallo qui ecco ora la prossima mossa lui ha giocato lì perché la prossima mossa era lì però qui donna B6 attacco qui in D4, tre forze cavalli due cavalli la donna lui alfieri lì giustamente ecco il torace 8 credo torre Fc8 torre Fc8 migliore allora qui perché torre Fc8 e non torace 8 perché torre Fc8 è migliore perché questo la torre mi serve in A per spingere A5 e poi A4 mandare via il cavallo e attaccare quindi D4 ecco e attaccare sempre ok l'idea è sempre qui e qui ok la vedo sempre qui e idea alfieri ecco non mi ha lasciato l'alfiere in H5 perché la mia idea è di fare l'alfiere in H5 va bene vuoi intrappolarti il cavallo giustamente no ora faccio questa mossa però lui può venire A4 però A5 gioca G4 no va bene vado cavallo H4 vado cavallo H4 ok dopo G4 cavallo H4 cavallo non è il cavallo un po' no perché il cavallo H6 sta male cioè fuori gioco e ora lui non può andare via con la torre perché poi viene il cavallo B4 che attacca il pedone e attacca e la 2 lui può fare questo giustamente e lui lo può fare però il problema è qui che viene il cavallo B4 il buco qui entro o cavallo B4 o alfieri B4 posso venire qui secondo me ora qui sono sono in dubbio di venire cavallo B4 ma se vengo cavallo B4 alfiere in C3 protegge tutto io secondo me ma alfiere qui se vengo alfiere qui può darsi un pochino meglio alfiere qui viene torre C1 alfiere prende B per C e non c'è nulla va bene allora facciamo questo alfiere B4 credo scusami alfiere B4 allora ora se fa G4 se viene G4 noi andiamo a cavallo B7 vede ecco ma cavallo C5 dopo il cambio cavallo C5 non può fare perché non può fare perché c'è cavallo per D4 il trucco e cavallo C5 cade e mangiamo con scacco ecco va bene per forza qui quanto tempo abbiamo noi 6 minuti 7 minuti 7 per 7 7 per 7 lui può venire anche alfiere B5 qui però c'è cavallo A7 sempre alfiere allora il nostro gioco dov'è dove consiste il nostro gioco ora ecco giustamente il nostro gioco consiste di fare la pressione qui sulla colonna C raddoppiare e poi andare via col cavallo cioè di fare la pressione su per attivare anche la sua correnza il problema è la donna la sua donna non può andare via perché il cavallo P3 è è stato attacco si dovrebbe forse qui può darsi andare via col cavallo si 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 non è che abbia tante mosse lui da fare ma la partita è equilibrata diciamo giocabile anche per lui questa è la mossa migliore secondo me che ha fatto ecco noi dobbiamo raddoppiare qui per forza non abbiamo tempo da perdere è doloroso perdere la coppia questo è vero però d'altronde d'altronde qui ora prendiamo col cavallo non va bene perché lui spinge F4 F5 dobbiamo prendere così c'è no sta resistendo ancora per poco sta resistendo bene questo è fastidioso secondo me cosa ne dici questa non dovrebbe essere buona perché il cavallo va in F5 di nuovo in avamposto ma anche F4 F5 non è realizzabile cioè dopo lui ha fatto questa però secondo me non era non è una mossa buona possiamo prendere sia col cavallo ma io dico con la donna così attacchi subito il pedone si attacco questa oh scusami attacco questo pedone attacco questo pedone faccio pressione adesso devi ritornare con la torre lì no per dipendere si si perché la prossima mossa è cavallo prende D4 qui cavallo prende D4 si perché lui se viene torre prende C7 noi mangiamo con scacco scacco prima se prende col cavallo se prende col cavallo noi facciamo torre prende e la donna deve dare la donna manda mangia anche la donna però poi cade il cavallo tattica ecco è caduto tattica bella 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 però cavallo prende ora non lo so lui può venire torre prende non c'è scacco non c'è scacco vedi diciamo che gli è andata bene non l'ha vista no no va bene però noi abbiamo le le nostre risorse cavallo qui punto esclamativo attacchiamo qui e attacchiamo qui attacchiamo in B3 qui come minimo lui perde un pedone ecco pedone questo comunque non è che l'abbiamo giocata molto bene però non abbiamo fatto errori è vero molto solido solido non abbiamo fatto errori teoricamente non abbiamo giocato le mosse migliori diciamo la verità però qui dobbiamo tenere sotto controllo anche il tempo ecco la mossa migliore ora è di fare cavallo qui e cavallo qui ecco cavallo qui questo è un trucco e poi cavallo qui e poi cavallo qui attaccando qui ah ok 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 perché giustamente mangiando anche mangiando qui però problemi era che cioè lui mangiava con la donna donna prende donna prende però e attaccava qui e il cavallo cioè B6 dopo cavallo E7 non va da nessuna parte ecco ora dopo cavallo qui e ora noi prendiamo a contagio qui cade per donna ecco questo qui è un osso duro allora vabbè cavallo qui è giusto cavallo qui attacchiamo la torre e torre C1 non può andare torre C1 non può andare perché viene B6 c'è la tripla minaccia no c'è anche semplice il B6 anche però cade ecco oh scusa no finalmente sì qui possiamo mangiare con la donna semplice perché con la donna e non con il cavallo con la donna è meglio perché se prendiamo con il cavallo B6 non possiamo fare perché veniva cavallo A6 doppio ma la vedo qui e ora però lui la prossima mossa è cavallo per D4 tattica tattica cavallo per B7 cavallo per D4 qui ma anche dopo B6 viene cavallo A4 eh sì più solida ma cavallo per B6 ma cavallo per B4 viene di nuovo torre P3 va bene noi questo lo dobbiamo fare comunque B6 lui viene cavallo qui può venire cavallo A4 e noi cavallo prende lui cavallo prende noi cavallo prende e diventiamo ecco lui viene qui noi mangiamo qui ah ok ok ecco mangiamo qui lui mangia qui noi mangiamo qui e difendiamo e creiamo due pedoni passati una è delle idee secondo me è la migliore importante non lasciamo il pedone in A5 è vero qui non apriamo la colonna perché poi il nostro re non è che e qui dobbiamo vincere anche torre scacco secondo me cambiando tutto eh sì perché abbiamo torre scacco torre scacco cavallo qui due torri due così dobbiamo vincere generalmente qui adesso porti il re verso importante è spingere questo pedone in A4 come lo realizziamo lo realizziamo con cavallo qui e cavallo qui ok una però poi viene poi il re ce l'ho allora la mossa migliore è di andare e di mangiare questo pedone secondo me cavallo qui perché F4 non può perché non può la mangiamo mangiamo sia qui poi e qui abbiamo tre pedoni in più praticamente per chi ha fatto congratulazioni maestro tante belle cose ragazzi alla prossima alla prossima la prossima Grazie a tutti.